Buongiorno, sono Anna Marmorada. Oggi è una bellissima giornata di sole, così non è stato il 29 ottobre quando la tempesta avvaia devastato il patrimonio boschivo e ambientale delle Dolomiti. Noi artisti abbiamo aderito volentieri al progetto Restato Lomiti e io in questa occasione metto a disposizione volentieri il mio lavoro, è un encausto su tavola e da come titolo pulviscolo. L'asta si terrà il 26 gennaio e io non posso che invitarvi a partecipare numerose. Ciao e grazie a tutti!